Vittoria di misura per il Bivongi Pazzano che supera l'Ostignano per una rete a zero. Il gol al diciannovesimo del secondo tempo ad opera di Coniglio Antonio, un ragazzo classe 2002, uno tra i più validi giocatori del Bivongi, soprattutto nelle file dei giovani che si stanno facendo avanti nella compagine bivongese. Una partita che sicuramente ha fatto la differenza per il Bivongi in quanto già giocava in superiorità numerica, in quanto l'Ostignano è entrato in campo con 11 giocatori e nessun giocatore in panchina. Purtroppo al sesto minuto si è infortunato il giocatore Tassone, il quale è rimasto per tutto il corso della partita fuori campo e quindi l'Ostignano ha giocato praticamente in 10 uomini. Il mister Carnat che era squalificato comunque si è detto soddisfatto della sua squadra, nonostante il risultato negativo di questo campionato perché i ragazzi hanno dato l'anima e hanno dato soprattutto grande disponibilità di gioco anche fino a quest'oggi. Naturalmente mancano ormai due partite, l'Ostignano andrà fuori casa la prossima domenica e così anche il Bivongi ritorna in casa invece per ormai festeggiare la matematica sicurezza di permanere nella prima categoria anche per il prossimo campionato.